Bene, eccoci di nuovo in diretta con Piazza della Riforma, questo lo dico naturalmente per coloro che ci seguono da casa e che finora hanno ascoltato la registrazione di Freddie Hubbard. È un grande momento per Estival Jazz Lugano, un musicista che abbiamo tutti scoperto anni fa alla scuola di R. Blakey, che abbiamo ammirato con Miles Davis, che abbiamo applaudito con i Weather Report. Questa sera è qui alla guida del suo gruppo, the one and only Wayne Charter, Wayne Charter, Quintet, Gene Bird, on Keyboards, Ale Tastiere, Terralyn Carrington, on drums, Carl Thomas, on bass, Marilyn Mazur, percussion, the one and only Wayne Charter, Estival Jazz Lugano. Applausi 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e 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 a tutti.